Sono stati in tanti a intervenire a Sassari al Padiglione Tavolara alla presentazione dell'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che andrà in scena l'8 il 10 giugno al Teatro Comunale, rappresentando la parte estiva della stagione lirica organizzata all'ente concerti Maria Elisa De Carolis assieme ai pagliacci di Leoncavallo, il 7 luglio in Piazza d'Italia. Venire qui al Padiglione Tavolara è sicuramente un atto che predispone proprio al dialogo, all'incrocio delle arti, delle istituzioni. Qui a Sassari succedono delle cose molto belle, molto interessanti che hanno solo bisogno di interfacciarsi e di dialogare il più possibile. Questo è un luogo stupendo che è stato restituito alla città dopo un restauro veramente efficace e noi abbiamo cercato di uscire in qualche modo dal nostro chiuso teatro per andare incontro alla città. Lo faremo ancora in maniera molto più incisiva anche quest'estate andando a proporci proprio nel salotto cittadino con i pagliacci che poi arriveranno. Però intanto questa cavalleria voleva essere un'apertura in grande stile della nostra stagione. Dopo i saluti del sindaco di Sassari Nanni Campus, del presidente dell'ente De Carolis Antonello Mattone e la ricostruzione storica affidata al giornalista Cosimo Filigheddu è stato a Gazzali a coordinare un vivace talk show in cui i protagonisti dell'opera hanno avuto modo di presentarsi interpretando alcune delle aree più note.